Ciao Edo, nuova stagione con un nuovo format di qualifica, cosa ci puoi dire? Questa cosa posso dire? Bella domanda. No, abbiamo delle nuove regole quest'anno, hai parlato delle qualifiche, non so bene cosa pensare. A me sinceramente piaceva il format vecchio, perché secondo me si creava spettacolo, specialmente nelle ultime gare perché c'erano tanti pretendenti al titolo. Quest'anno penso che sarà sicuramente più fair, più giusto per i top contender del campionato, avrai sicuramente 3-4 piloti che saranno spesso davanti. Però sicuramente sarà più prevedibile il campionato, non so se per i spettatori e per la gente comunque rimane uno show, sia così bello. Vedremo però. Cosa ci puoi dire di questa pista del simulatore? Penso che non è cambiato molto dall'anno scorso, no? No, teoreticamente no, però vedremo poi in pista se così. Sicuramente ogni volta che veniamo qui il problemino è che siamo gli unici a guidare qui e quindi ci vuole un po' di tempo per pulire la pista e per avere il grip giusto. Quindi i primi giri diciamo sono sempre abbastanza difficili. Poi vedremo. Con questa nuova forma di qualifica si può anche giocare un po' tra virgolette con le gomme, nel senso di cambiarle, mischiarle? Sì, sicuramente a livello di gomme ci sono più opzioni. Sicuramente alla fine finiremo per fare tutti più o meno la stessa sequenza e scegliere più o meno le stesse gomme perché cominciamo a avere comunque abbastanza esperienza con queste gomme. E' già la terza e quarta stagione con il stesso tipo di gomme. Quindi alla fine sicuramente finiremo per usare la stessa sequenza e poi vedremo. Grazie a te.